Agli alti livelli non esistono scorciatoie. Mi stai sfruttando proprio lavoro. Non importa dove parti, ma l'importante è dove arrivi. Mi chiamo Donaldo Telesca, ho 22 anni e vengo dall'Italia. Io ho avuto un incidente quando avevo due anni e mezzo e ho avuto l'amputazione di entrambe le gambe a questa altezza qui. E non ho mai smesso appunto di sognare e di ambire a quello che è il sogno di Tokyo 2020. Il top. Non è iniziato. Una delle prime cose che mi sono chiesto era qual era il record del mondo? Ok, va benissimo, io non sono lì, voglio arrivarci. In questo momento credo che la cosa più importante sia continuare ad allenarmi sempre di più e sempre meglio. Siamo agli sgoccioli, diamo il massimo per arrivare alla miglior condizione possibile e a scrivere un altro da sello in biglistoria.